Alfa Basket, Catania e Sport Club Gravina sono scese ieri sera in campo al Palacus per un amichevole precampionato. Le due squadre prossime, protagoniste della Serie C Silver siciliana, hanno testato gambe e ingranaggi in vista della regular season. Ormai prossima, il match terminato con un risicato 61-60 in favore degli alfisti, ha vissuto un'altalena di emozioni. Complessivamente meglio i gravinesi nella prima parte di gara, che poi subiscono lo sprint alfista dopo la pausa lunga a fine partita. Ecco il commento di coach Massimo Guerra. I amichevoli precampionato lasciano sempre il tempo che trovano, nel senso che ci servono noi staff per capire a che punto siamo arrivati, sia a livello fisico che di comprensione del gioco. Diciamo che sotto quel punto di vista abbiamo fatto sempre dei passi in avanti. Sicuramente l'atteggiamento in campo dei primi due quarti non è stato positivo, poi invece abbiamo cambiato il nostro atteggiamento e questo invece è una cosa buona, nel senso che si vede che è una squadra a carattere che riesce anche nei momenti di difficoltà, in questo momento qui, a cambiare il trend. Quanto sta cominciando a somigliare a coach Guerra, l'alfa basket? In alcuni momenti, soprattutto nelle altre partite a livello difensivo, stiamo facendo molto molto bene. Invece l'altro anno purtroppo eravamo una squadra con poca attenzione e poca volontà in quelle situazioni di gioco. Invece i ragazzi quest'anno quando si mettono a difendere, l'abbiamo dimostrato anche oggi, su una partita, ripeto, con grandi difficoltà, sia per il buon valore dei nostri avversari, sia perché noi avevamo le gambe pesanti, però quando cominciamo a stare giù sulle gambe, aiutarci tutti con voglia di determinazione, lì mi piacciono, mi piacciono. Quindi speriamo di continuare così e diventare una squadra che gioca affamata e incazzata. Allora se giocano così mi assomigliano. Soddisfatto dello sport club Gravina, coach Giuseppe Marchesano. Abbiamo giocato anche una discreta pallaganestro per essere ancora in preparazione. Per noi questo era un test importante perché ovviamente loro sono una squadra attrezzata bene, una panchina molto lunga. Noi abbiamo tanti under da cui ci aspettiamo quest'anno una crescita. Ovviamente ancora mancano due settimane, abbiamo da sistemare un po' di meccanismi, soprattutto difensivi, però devo dire che mi reputo abbastanza soddisfatto della prestazione della squadra. L'Alfa Basket tornerà in campo già domani sera per una nuova amichevole in programma Reggio Calabria alle 18, in casa della Viola Basket. Grazie a tutti. Grazie.